Di nuovo buon pomeriggio, bentrovati con Moversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. Traffico lento in A1, segnalato tra Calenzano e il Bivio A1, traffico intenso in direzione di Bologna. Un veicolo in avaria sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti tra Firenze-Scandice e la Strassigna in direzione di Livorno. Sull'Aurelia una corsia è chiusa per lavori tra Montenero e Livorno Sud in direzione Nord per lavori in A1 dalle 22 di domani alle 6 di venerdì sarà chiuso, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 Milano-Napoli panoramica in località La Quercia e Firenzuola-Mugello verso Firenze. E attenzione alla pioggia, su molte strade e autostrade della nostra Toscana, ricordo in caso di pioggia la velocità massima in autostrada scende a 110 km orari. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.